Da una parte un calciomercato chiuso con 13 arrivi e 17 pertenze nel segno di una rivoluzione tecnica finalizzata ad allestire una squadra competitiva e determinata a puntare alla promozione diretta. Dall'altra le frizioni con una parte della piazza. Giovedì il Bari ha annunciato gli ultimi tre rinforzi del calciomercato estivo, i difensori Giglio Tieppucino e il centrocampista Di Gennaro, giocatori di esperienza e qualità con una carriera, spesa quasi solo nelle categorie superiori, ma poche ore prima si era consumata una frattura, quella tra una parte degli ultras bianco-rossi e la dirigenza. La contestazione più diretta da agosto 2018 si è concretizzata in uno striscione affisso all'esterno dell'antistadio dell'Aurentis Tempo Scaduto, il messaggio recapitato al numero uno del Bari, seguito da una nota affidata ai social dove si elencano alcune criticità. Il punto di partenza è il triste epilogo dello scorso campionato quando la squadra era stata eliminata al primo turno della prima fase nazionale dei play-off dalla Feral Pissalò, con il mancato salto in via auspicato entro tre anni dall'insediamento della proprietà. Dell'elenco di errori attribuiti alla società fanno parte sei cambi di allenatore in tre anni, tre direttori sportivi nello stesso arco di tempo. Nel mirino anche le cessioni dei talenti delle giovanili Mane e Mercurio passati in prestito al Napoli, altro club dei De Laurentiis, con richiesta tutt'altro che velata. Crediamo sia giunta l'ora per la famiglia De Laurentiis di passare la mano, scrivono. Un messaggio che attesta un clima di tensione creato intorno alla squadra da una parte della tifoseria. Andando a ritroso di qualche mese si ricordano i fumogeni lanciati in autostrada da un cavalcavia in direzione del Pullman del Bari di ritorno dalla sconfitta per 3-0 a Torre del Greco il 25 aprile e la testa di Maiale a corredo dello striscione minatorio, se non ci credete questa fine farete, esposta all'esterno del San Nicola due giorni dopo. All'epoca la procura apri un'inchiesta, questa volta i toni sono meno accesi e buona parte della piazza barese ha preso le distanze reputando sul web fuori tempo e fuori luogo le rimostranze dalla società che nel triennio ha investito diversi milioni di euro nel progetto SSC Bari e che alla pari degli altri club italiani ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia da Covid-19. Non sono arrivate repliche ufficiali, la massima concentrazione è sul campo. Domenica sarà infatti tempo dell'esordio casalingo in campionato. Alle 17.30 al San Nicola arriva il Monterosi e la squadra di Mignani è a caccia della prima vittoria stagionale dopo l'1-1 del debutto a Potenza.